Buonasera ed eccoci alla nuova night session su Bitcoin. E' domenica 7 luglio, sono le 23.16 e questo weekend abbiamo avuto più movimenti del solito su Bitcoin, sul time frame a 45 minuti perché non abbiamo avuto la classica linea retta ferma, il solito encefalogramma piatto, ma invece abbiamo avuto una buona variabilità. C'è da notare che, di nuovo, anche per chi non conosce ancora l'analisi evoluta, come di consueto i tempi hanno funzionato bene, ossia siamo andati a salire su e l'abbiamo fatto in 35 barre, durata leggermente più alta del ciclo medio e poi abbiamo iniziato a scendere, chiuso tra l'altro, tutto il T-1 inverso. Che cos'è un T-1 inverso? Un ciclo in media a 4 giorni, ma che poi va a 5 e qui infatti abbiamo fatto il quinto ciclo giornaliero, senza più dubbi. Cos'altro posso dire? Cos'altro vedo? Vedo che il tecnica 2 e il tecnica 3, in questo momento, sono con dei volumi talmente bassi che direbbero inversione, però nella realtà dei fatti il discorso è ancora più complesso, per cui quando ci sono volumi minori rispetto a un determinato livello rischiamo di avere dei segnali che non sono poi corretti. Possiamo anche far notare che il livello volumetro che avevo dato non è stato assolutamente rotto, quindi non abbiamo avuto continuazione di rialzo e che in questo momento qui passa un supporto molto molto vicino a quelli che sono, è quello che è il minimo a 56.724 dollari e qui sotto c'è un secondo supporto. Come vedete questa è una terminologia che nessuno usa e che è tipica ed è un'esclusiva appunto dell'analisi evoluta di cui potete sapere tutto se andrete alla pagina analiseevoluta.it e analiseevoluta.com e richiederete appunto gli appunti. Cos'altro raccontarci? Uno, abbiamo una barra in più qui, abbiamo fatto 45 barre, un piccolo raccordino per chiudere il nostro T-2, il nostro ciclo a due giorni oppure purtroppo senza l'ausilio di cose particolari abbiamo avuto sette candele sopra questo minimo, quello delle ore 9,5 e siamo già vincolati a ribasso e siamo già arrivati alla diciannovesima barra su minimo 24 perché il dubbio che mi è venuto è stato ovviamente questo. Qui abbiamo tutte le condizioni per la chiusura appunto non soltanto del secondo ciclo giornaliero e abbiamo anche la possibilità, come detto, a livello di tempo di far partire un nuovo ciclo giornaliero, il terzo che sarebbe già vincolato a ribasso e che quindi ci porterebbe a una discesa che potrà continuare, potrebbe continuare fino minimo alle 3.30 di questa mattina in media alle 9.35, chiusura della 32esima barra e al massimo fino alle 18.30 di domani, chiusura della 44esima barra. In questo momento con la media mobile che, come puoi vedere, non è stata violata non si è riusciti ad andare su abbiamo fallito il superamento del livello superiore dell'acumo di questa nuvoletta che si chiama KUMO e con questa candela rossa in questo momento che ci riporta verso il livello inferiore io inizierei a attendere magari di capire se effettivamente avremo questo ciclo ribassista e quindi dovremo attendere almeno per gli orari che ho appena finito di definire per capire se si vuole continuare a scendere per tutto quel tempo anche perché è di inverso a quanto siamo arrivati qui siamo arrivati a 20 barre ma qui siamo andati a 24 e è brutto da dirsi ma per le regole adesso allargo lo schermo per le regole con 1, 2, ecco primo livello raggiunto 1, 2, 3 barre sotto questo massimo e qui noi la condizione sufficiente per la chiusura di questo sesto ciclo giornaliero inverso ce l'abbiamo e quindi da qui può star partendo un settimo T-3 inverso con una bella spinta che confermerebbe appunto di essere su un ciclo giornaliero vincolato ribasso attenzione però adesso come avete visto per chi ancora negli reclam vi racconta che l'analisi tecnica non serve vabbè facciamo notare che abbiamo rimbalzato praticamente sul livello inferiore della cumo e che non siamo riusciti a superare la media mobile quindi se non la sai usare l'analisi tecnica non funziona con niente però sei tu che sei incapace non è l'analisi tecnica che non funziona sei tu che non sai settare determinati parametri per farla funzionare bene per cui invece chi la sa utilizzare bene vi può far notare appunto tutte queste cose qui ho segnalato un altro livello di supporto che può essere quello che eventualmente se rompessero ci porterebbe magari una chiusura di terzo ciclo giornaliero volevo ancora far vedere un'altra cosa allora primo sempre analisi tecnica per cui l'analisi evoluta è un'evoluzione dell'analisi tecnica prima cosa Fibonacci caspiterina ma dimmi tu quell'analisi tecnica che sento dire dai fuffa o da gente incapace che non funziona ha funzionato 50% di questa discesa equivale al rimbalzo fatto dal quale siamo iniziati a scendere ma caspiterina ma dimmi tu incredibile ok qui altro livello di Fibonacci coincide con tanti altri tipi di resistenza ce lo siamo lavorati e poi però abbiamo ceduto e quindi se si sanno utilizzare bene determinati strumenti si hanno livelli volumetrici livelli di target che sono stati rotti e questa è una candela forte per adesso possibilità di vincolo ribassista con il terzo T-3 il terzo ciclo giornaliero e un altro target nel caso di rottura di questo livello certo diciamo che in questo momento rimbalzo fatto non è che abbia questa grandissima forza parlo di questo specifico preciso momento domenica 7 luglio ore 23-24 non mi sbilancio su altro però se già come dicevo in passato non riusciamo a rimanere per troppo tempo sopra la media mobile a 50 periodi iniziamo di nuovo a avere prezzi che vanno a finire sotto non è che possiamo sperare in un rimbalzo più forte sappiamo perfettamente che questo rischia di diventare un quinto ciclo settimanale e rischiamo di ritornare verso quest'area non è che ci voglia uno scienziato nucleare a meno che non ci sia gente che appunto sparla di tecniche che funzionano perfettamente allora sì lì non ci si arriva mi auguro sempre che la gente rifletta sul fatto che non si possono spiare legalmente le banche perché altrimenti oltretutto ci si affida gente che sta facendo una cosa illegale per cui è una roba che rischia di saltare in qualsiasi momento poi voglio vederlo come fai a spiare le banche i flussi delle banche questo sarebbe veramente eccezionale sarebbe una violazione talmente grossa a livello di privacy se parliamo di colorantisti se non di altro che solo sentirlo dire negli spot che passano furiosamente mi vengono i brividi lo giuro i brividi a sentire certe castronerie ma va bene così il mondo è perfetto così com'è perché è vario e quindi è giusto che la gente sbatta la testa e le corna imparando che cos'è un fuffaguro e perdendo soldi con gente che non sa neanche come utilizzare l'analisi tecnica a parte questo teniamo conto che c'è la possibilità appunto che l'acquisti è iniziando un settimo t-3 vedremo quindi se sarà iniziato con almeno altre 5-4-5 barre sotto questo massimo assoluto vedremo se continueremo appunto con la discesa avremo purtroppo il terzo ciclo giornaliero vincolato al ribasso per tutta la sua durata quindi fino potenzialmente alle tre e mezza di questa mattina dato che siamo in una fase volumetrica delicata preferisco coricarmi andare a riposare per prepararmi per la prossima settimana svegliarmi domani all'ora che mi sveglio vedere a che punto è bitcoin e ragionare se il tecnica 2 e il tecnica 3 mi daranno delle informazioni che potrò condividere con il gruppo premium per cui potremmo andare a generare i nuovi guadagni su bitcoin altrimenti questa sera non ho voglia di anzi non ho non è voglia siamo in una situazione di bilanciamento faccio vedere anche quest'ultima cosa da qui a qui perché fibonacci si può tirare da tanti punti differenti siamo molto vicini al 50% di ritracciamento ok a livello volumetrico non abbiamo cose particolari per cui essendo in una sorta di equilibrio bilico preferisco non prendere posizioni e aspettare quando i volumi saranno maggiori e vedere che cosa effettivamente avrò a livello di opportunità che mi verranno date dal tecnica 2 e dal tecnica 3 che sono appunto un'esclusiva dell'analisi evoluta e che non esistono nella vecchia analisi ciclica e neanche nell'analisi tecnica ovviamente se questo video ti è servito per fare un bel recap metti un bel like avrò una maggiore indicizzazione sarà anche una pacca sulla spalla per tutto il lavoro che faccio anche domenica alle ore 23 e 28 buona serata